... Bene ragazzi, eccoci ritrovati su questo video presentazione di quello che vorrei fare Con questo mio amico scemo che cade con il jetpack Che ha un nome, vero? Bella a tutti ragazzi Allora, avevamo in mente di fare questa serie Tech Kit con questo mio amico Sinceramente lui mi ha dato l'idea però Di farla, avevo voglia anche io perché comunque ho il premium finalmente Ah vabbè, lasciando perdere che ho la nano E ora Dragon Raid mi ucciderà solo per questo, ma tanto io ho la nano saver Allora, vi volevo far vedere un po' di cose che avevamo fatto io e questo mio amico in questo nostro server Ci abbiamo messo quanti giorni? Quando avevo iniziato a fare tutto questo? C'era stato due settimane fa Due settimane? No, due settimane fa abbiamo iniziato stasettimane Un bel po' di lag, giusto così Allora, prego venite dove? Vedo a casa tua No, casa tua la vediamo dopo Sì, perché lui dice che è un obbrio obbrio Io invece ogni volta cambio stile Comunque dai, partiamo dalle cose più schifose ovviamente Non fregarmi l'energia del mio MK3 perché altrimenti ti spacco la faccia Allora, qua abbiamo fatto un generatore di cobblestone Che tanto ormai io l'ho donato a lui perché io ho l'MK3 Quindi non me ne faccio qui niente Tanto c'ho pure la Claystar Drey Per bastarvi ghost, c'ha tre fottotissimi Darkman Ma non è che mezza uno, eh? No, mi servono, mamma Ma se per questo nella Drey c'ho anche 324.000 di energia Ma tu morirai, te lo giuro, prima tu morirai Comunque Adesso ti si aprono le voraggine sotto di te e cadi nella lava, guarda Aspetta, c'ho le... no, l'ho messo via Ah no, eccolo qua, il Distraction Catalyst Potrei aprirti un varco sotto di te, ma non è un problema Non mi tentare, eh? Non ci provare Comunque Non mi tentare Il generatore di cobblestone l'abbiamo fatto Poi Laggiù potete vedere un portale inutile ormai Perché tanto abbiamo preso due pezzi di glowstone e poi ce la siamo trasmutata Sì, ma... Poche parole questo Praticamente questo... mi sa che questo portale è chiedere ai soccorsi Perché talmente tanti che... Se sentite basso Dragon Red Perché ovviamente il mio microfono non è più come una volta No, perché una volta non registrava la mia voce, ma sai cosa registrava? Il camion fuori dalla spazzatura, però Ma perché cavolo mi chiudi la porta in faccia? Perché io che... Allora, qua ci ho fatto tutta la serie di... Allora, qua ci ho fatto quasi tutti i macchinari Mi manca il massfabricator e il ricicler Ma... Li farò dopo Qua per ora c'ho la MFE Poi dovrò fare la MFSU perché la qua... Perché se no la Quantum me la ricarico con le scorreggie Qua c'ho i project table e tutte... Di pure Allora, intanto l'MK3 qua continua a accumulare energia Ma io prendo, prendo energia Tutto andare Non ci fate caso se ho qua l'uranium cell Ma non le metto dentro Allora, io... Mo' accendo la nanoseber e ti faccio fuori in quattro colpi Quanto ci scommerete? Ti li regalo? Ti regalo questo No, per ora non ci faccio niente Fuori da casa Ascolta, io volevo fare un video... No, a me non mi puoi trasmutare Puoi trasmutare i mostri, la lava, il ghiaccio Tutto quello che vuoi, ma a me non mi puoi trasmutare Allora, qua vi stavo dicendo Ho fatto la serie di macchinari Me ne mancano due o tre, se non sbaglio Però, più o meno, quelli essenziali ce li ho qua Non me la puoi fare il ghiaccio Se vedete che non ho fatto tutti i cavi Perché ormai uso le... Non me la puoi fare il ghiaccio Fottiti, eh, perché non sai come farlo C'hai più esperienza di me nella Techit, però... Ce l'ho fatta Sono un cazzo di Gesù Cristo Cammina sull'acqua Ecco, io sono bloccato dentro il ghiaccio Qui ho la safe chest con tutto il ben di Dio Minchia E' il Dio di Ben Guardate qua, ragazzi Proprio 58 blocchi di ferro 26 di T, 9 di... Ragazzi, sapete perché... 18 di Tung Steno, ma vabbè Vorrete sapere perché lui si è fatto la safe chest? Perché qualcuno mi viene a fottere la roba Però ti ricordo che io sono OP Quindi posso... Quindi posso venire a fotterti la roba Poi, come avete già visto, ho fatto già la MK3 La Cleanstar Drey Drey, ottimo Qua volevo fare i track per una cosa che vediamo dopo Che non si faranno, perché... Ho fatto già il Destruction Catalyst La Nano Saber Tutta la... Ah, facciamo vedere... Nano Body Armor Vabbè Poi facciamo... La Nano Body Armor La Nano e basta Ecco Ti tira un colpo di moschetto Allora, andiamo a vedere un attimo cosa ha fatto Dragon Red a casa sua Che si è preparato... Eh... Prega che non ho colpi nel moschetto Perché li devo fare Allora, qua ha fatto un relay Che accomuna energia da... Come mi ha detto lui, che questo non neanche lo sapevo Ascolta, posso spiegargli l'olio che mi sento? No, io non sono handicappato, quindi ora ti sbatto dal server Allora Dovrebbe accumulare energia da questi MK2 Perché il poveraccio qua vicino a me non è potuto farsi l'MK3 In realtà io... In realtà io potrei farlo Cioè, 3 MK2 Ma non fai prima a farti un MK3 che contiene anche più energia? Eh, ma sono i dettagli Eh, quelli sono piccoli dettagli, però Poi al piano di so... Ma poi vi faccio vedere L'impianto di Watermill che ha fatto rispetto al mio impianto Ma che cado qua è... Cioè, è normale ormai che cado qua Qua sono esplosi circa 7-8 creeper Sono tutte esplosioni di creeper queste C'era anche... Infatti qualche volta ci trovano anche gli slime Eh sì, perché io li trasmuto con sto robo Quindi... Perché non c'è niente da fare Sì, perché io non c'è niente da fare durante la giornata Mi manca solo che gli trasmuto la casa in sabbia Eh... Lasciamo perdere Sì, perché non c'è niente da fare la faccia verrà Qui... Abbiamo fatto solo il reattore nucleare Qua ci ho messo un low power transformer Qua una batbox Perché sono un poveraccio Scherzo Perché non c'ho voglia di farmi... Di farmi l'MFE Intanto questo... Eh, per piacere Mi metti un po' di energia Perché mi serve Energia dove? Nelle... Nelle... Ma tu non hai... Dico io uranium cell No, eh? No Ma perché mi vedi così? Io c'ho la spada normale Tutta... Non sembra un incoglionito Ma va bene Vabbò, eh... Sono dettagli Pure queste Eh... No, ovviamente io non... Ma fatti le... Le singole usbattere Che cazzo? Ma dammi un po' di energia Certo che no! Ma fa f***i Qui intorno sento sempre della lava Ma non scavo mai intorno Perché... Aspetta A parte quando dovrò fare la rotaia Che mi uscirà una colata di lava in testa Ma sono dettagli... Sono dettagli pure questi Vedi che... Vedi dove è la lava Che bella pozzetta Che il mio amico... Io posso anche far vedere Quanto mi consuma di cuori Cadendo con sto nano Perché lui è un fottuto nano Eh... E il mio amico è Talmente intelligente Che oltre che non ha la nano Si butta pure giù così A random E poi mi lasci cadere Si mi lascio cadere Comunque Cos'altro... E cos'altro vi devo dire A parte che il mio amico Sta usando l'X-Ray mod Che io non userò Ah laggiù ha fatto il... Il query Mio Si suo Su anche se poi alla fine Gli ho regalato il... Il mio... Generatore di cobblestone Perché all'inizio L'avevo fatto io Poi qualcuno ci ha fatto esplodere Un creeper Mio fratello non è... E gliel'ho fatto rifare Tutto quanto a lui Ho detto se non me lo rifai qua Io ti frizzo finché non lo finish Che ragazzi Mio fratello Uccide... Fa scoppiare i mob E io naturalmente Comun coglione Devo ripagare su da Ovviamente qua si vede Che è tutto fermo Ma da quanto mi ha detto Il mio amico Si muove però E che cazzo mi sono rotto le palle Il mio amico non ce la fa Io dovrei fare una serie con lui Ma lasciamo perdere Si ragazzi Tra 30 anni uscirò dal buco Solo da quel buco Comunque... Eh... Si Vi... Se vuoi salutarli enderman Ci sono davanti a casa mia Ah hai ragione Andiamo a uccidere qualche enderman Intanto con la nano Saber Li faccio fuori in 448 Comunque sembriamo che ci stiamo vantando Ci stiamo vantando per cosa? Per quello che stiamo facendo Ah aspetta che forse lo raggiunga il ragno Si ce l'ho fatta Muori enderman Si e poi si teletrasporta Ma neanche si fa beccare Si teletrasporta Giusto così Ok Due point Oh eccolo Amico mio Ma fatti beccare qualche volta però eh Mi sa che è arrivato da te Ah no è arrivato da me Ormai io sono amico con gli enderman Solo perché Solo con quelli Vi faccio vedere quanti ender perciò Senza essermene trasmutate Cioè mi son messo in un Sì due death point Perché tu sei intelligente Eh non vi faccio vedere quanti cabos Non c'ho qua dentro Oddio mio Non vi faccio vedere quanti cabos Sono qua dentro Però gliela faccio vedere Non vi faccio vedere Giusto Comunque vi Non fumo però c'ho la sigaretta in mano Non vi preoccupate Sì è come È un punto È così Sì ma ormai è È scontato uccidere Gli enderman Specialmente se sono Eh sì ti do una mano in poche parole Comunque Comunque ragazzi Vi lascio in descrizione Una lista degli obiettivi Che avevo in mente Ovviamente se ne avete altri Aggiungetemeli Cioè se non ne sono a corrente Me le studierò un po' Con questo mio amico Che è il mago Della Techit Mago? Sì tu sei il mago Della Techit A parte alcune cose Che neanche le sapete Ma no alcune cose Non le utilizzo mai Perché sono abbastanza Tipo computer Craft Quella Quella Craftino la uso Ragazzi Eppure Ma neanche io la uso Io so solo il comando Ti piace Ho visto solo due tre comando Ho imparato a salutare il computer E a fargli accendere il Non a fargli accendere la red Sono vicino Bello No però non me lo ricordo Neanche più Pensa a te Comunque ragazzi Un'altra cosa Come al solito Il mio computer Dopo qualche mese Senza reset Si rimbambisce Quindi dovrò Tenere la render distance In short Non penso sarà un problema Perché tanto c'è la La Optifine Quindi riesco a vedere Anche quando è giorno Quando è giorno Quello si capisce Dove Il sole Dove è la luna In poche parole E come vi ho già detto Vi lascerò in descrizione Una lista di obiettivi Se volete Scrivetemele qualcuno Perché c'era Accettate che facciamo Appunto Accettate che facciamo questa serie Vedete mi piace Magari Anche se sono al corrente Che ormai l'hanno già fatta In 30.000 Però date la possibilità Anche a chi non l'ha fatta Sì faremo questa serie Però magari ci metteremo Un po' di Di buon senso Magari faremo qualche cazzata Già io Solo il video Delle introduzioni Ho già fatto due cazzate Eh sì È caduto come un pirla Ma lì Vabbè ormai sono abituati I miei amici a morire In questo modo Ma quante volte sono morti In questo survival Uno E indovina come Andando a Fikappa E Guardate un po' ragazzi Guardate un po' Sono andato Sono andato a Fikappa qua Renditi conto Ma secondo te Non sono cretino Infatti io ti guardavo Infatti quella è stata L'unica morte stupida Che ho fatto Perché mi sono dimenticato Di chiudere il cervello Infatti ti guardavo Come dire Che cazzo sto facendo E infatti era andato A bermincaffè Comunque Non ti conviene Alzate adesso E' giusto Un'altra cosa Se vedete qua il ghiaccio Non è perché E' un biome invernale Ma perché non c'ho Niente da fare Sponavo il ghiaccio Ah ecco perché Ma vaffanze Ma amici Non mi trovo Sto cacchio di ghiaccio E beh Ma è normale Ma è normale Oppi Oppilala Oddio mio Visto ragazzi Ecco Faremo tutto sto mondo così Faremo una serie del genere In po' che parlo Da scherzo ragazzi Ci metteremo Metteremo dello spirito Ragazzi ci metteremo Come in città Ci metteremo proprio lo spirito L'alcol Però E ci metterò l'aria Non si vede che la prossima volta Ci metteremo pure San Simone No Non lo farò mai più Comunque ragazzi Commentate Se volete vedere questa serie Ovviamente Vi ho fatto Questa intro Per sapere se volevate vederlo E Niente Commentate E alla prossima